Ragazzuoli, ciao a tutti! Mi sembra giusto parlare di questa notizia che è giunta oggi con la possibilità quindi di immaginarsi, anche perché di fatto avverrà un elemento della Next Gen che per le ultime partite sarà a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra. Questo grazie a che cosa? Grazie a una competizione sudamericana dove Mattia Sule è stato convocato dalla nazionale argentina e che quindi considerando che la competizione inizierà il 20 di maggio e finirà l'11 di giugno viene da sé che per le ultime partite della stagione la Juventus non potrà fare affidamento a Mattia Sule per la gioia di qualcuno dopo l'errore di Bologna mi viene anche banalmente da aggiungere e presumibilmente da ciò che si dice anche considerando che appunto la competizione inizierà il 20 e che presumibilmente la nazionale andrà in ritiro anche qualche giorno prima per prepararsi al meglio alla competizione. Sule sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita di domenica contro l'Atalanta per la partita di giovedì contro il Siviglia e basta. Per poi quindi a partire da Juventus cremonese non essere più a disposizione di fatto per le partite rimanenti tra campionato ed Europa League con l'augurio di avere un altro giocatore dell'Under 23 anche il 31 ma questo è sempre un altro paio di mali che insomma lì meno male ci capiamo e i candidati per rimpiazzare Mattia Sule pare siano tre compagnol Sekulov e Kenanildiz il primo classe 2001 alla destra prettamente alla destra che nella Juventus Next Gen pardon mi sono un pochino intrippato in questa stagione ha collezionato sei gol e quattro assist il secondo Sekulov classe 2002 dove anche lui è praticamente un'ala destra anche se alle volte può giocare anche in altri ruoli ma la stragrande maggioranza delle partite che ha fatto in questa stagione le ha fatte da ala destra anche lui collezionando sei gol e due assist in serie C comunque tra i professionisti e infine Kenanildiz anche lui alla destra più che altro anche seconda punta che tra Primavera e Next Gen ha collezionato 14 gol e sei assist anche se è giusto dire che praticamente tutto lo score l'ha fatto con la Primavera non con l'Under 23 dove ha iniziato a giocare in pianta stabile a partire da marzo di questa stagione e non magari da gennaio come è capitato con Uisen e vedremo onestamente chi Massimiliano Allegri deciderà di tirar su per l'ultimo spezzone di stagione che potrebbe essere anche quello che può regalare alla Juventus una piccola gioia dopo due stagioni dove di titoli nemmeno l'ombra e che comunque potrebbe risultare il candidato una persona importante ai fini più che altro di far rifiatare il di Maria della situazione o cose di questo genere c'è da dire una cosa che per esempio per quanto riguarda il caso di Hildiz come abbiamo visto nel momento in cui è finito il campionato Under 23 è subito tornato a giocare con la Primavera e infatti nella partita contro la Roma ha giocato praticamente tutta la partita quindi non so se Massimiliano Allegri deciderà effettivamente di tirare su lui perché il campionato Primavera a differenza dell'Under 23 continuerà bene o male sulla falsa riga di quello della Serie A e quindi considerando che è stato richiamato ha giocato sin da subito tutti non dico i 90 minuti ma praticamente quasi tutta la partita con la Primavera può essere che la Juventus possa decidere di continuare a farlo rimanere in Primavera fino alla fine della stagione per poi magari spostarlo definitivamente in Under 23 o magari in prestito da qualche altra parte per la stagione 2023-2024 questo non lo possiamo sapere però c'è da dire anche una cosa che a differenza di Sekulov e Compagnon Ildith ce l'ha un pochino di più il fatto di essere seconda punta Sekulov oltre a fare l'ala destra ha fatto diverse partite un pochino più arretrato centralmente da trequartista però molto dipende anche da come Massimiliano Allegri in questa stagione ha visto sull'E in quale ruolo, con quale compito spesso e volentieri noi l'abbiamo visto soprattutto come seconda punta nel famoso 3-5-1-1 poi sappiamo anche che per come si evolve la partita poi al giocatore chiedi di coprire spazi differenti che alle volte potrebbero un pochino più richiamare il ruolo dell'ala quindi non lo so è per questo onestamente che non so bene che idea farmi perché i primi due Compagnon e Sekulov di fatto sono due ali a tutti gli effetti che sì, Sekulov anche ha giocato da trequartista Compagnon ha giocato anche da centrocampista centrale Mezzala un numero veramente irrisorio di partite però se Allegri vede realmente sulle sottopunta seconda punta sottopunta è un termine che è andato in voga quest'anno vedendo lo schieramento della Juventus ma diciamo seconda punta ecco, tra i tre presumibilmente proprio Ildiz quello che ha un pochino più nelle corde questo ruolo e vedremo ma a prescindere da Ildiz e non Ildiz sarà interessante indubbiamente vedere l'ennesimo giocatore dell'Under 23 trovare dello spazio con la prima squadra della Juventus perché comunque è vero viene difficile immaginarsi che uno dei tre possa giocare contro il Siviglia alla semifinale di ritorno contro il Milan o quant'altro ma vedendo appunto che avrai da qui alla fine della stagione di fatto tante partite tutte quante ravvicinate alcune delle quali contro la Cremonese contro l'Empoli o quant'altro considerando che comunque di fatto Di Maria deve rifiatare giustamente perché penso abbia dato dimostrazione di non poterle giocare tutte 90 minuti ogni tre giorni ci può stare pensare che chi di questi tre salirà del minutaggio lo possa fare sicuramente non un minutaggio da far venire i brividi la pelle d'oca però intanto un approccio alla prima squadra sicuramente lo avrà e io dico la verità onestamente mi aspetto un ragionamento simile anche per quanto riguarda un possibile vice quadrado perché bene o male l'unico che poteva diciamo far rifiatare in un qualche modo Juan Quadrado era Mattia De Sciglio Mattia De Sciglio che purtroppo sappiamo che ieri ha avuto un problema molto grave e che per diversi mesi sarà lontano dal campo e considerando che abbiamo visto anche Barbieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo e considerando sempre che appunto il campionato per l'Under 23 per i giocatori della Next Gen è terminato non mi stupirebbe per nulla se da qui a fine stagione in attesa poi di fare valutazioni per il futuro il posto di Mattia De Sciglio possa venire rimpiazzato da Barbieri considerando no anche qui bene o male lo stesso discorso fatto per il futuro rimpiazzo di Mattia Sule e considerando che sarebbe ancora più bello vedere altri giocatori sempre di più della Next Gen salire in prima squadra trovare spazio ed essere di fatto importanti se non in ottica titolarità sicuramente in ottica sostituti perché di fatto servono anche quelli se ti giochi partiti importanti ogni tre giorni e di fatto non hai rimpiazzi e sono curioso di vedere chi sceglierà la Juventus sappiamo che Hildiz è probabilmente il giocatore un pochino più pompato a livello mediatico uomo adidas tra le altre cose che nel momento in cui è arrivato alla Juventus come vi ricorderete hanno fatto un video dedicato come cazzo se fosse il top player che si è mosso invece è un giocatore che ha fatto dalla primavera del Bayern alla primavera della Juventus però sapendo anche quanta attenzione al giocatore e quanto è spinto il giocatore può anche essere che sarà proprio lui il candidato numero uno anche se gli altri probabilmente quantomeno tra i professionisti hanno dimostrato un pochino di più ma molto sta anche come detto prima da dove e da come vede o vedeva allegri Mattia Solè per poi andare a prendere il giocatore ideale secondo quella che è l'aspetto tattico l'aspetto di gioco voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Jume di gioco Grazie a tutti.